Romina Power, oggi è un giorno speciale, è come Natale per me per Romina Power oggi non è un giorno come un altro, ecco l'immagine che ha fatto impazzire i suoi fan, è come se fosse Natale. Romina Power è sempre stata una donna che ha avuto due grandissime passioni nella vita, anzi tre, la prima ovviamente è la musica, la seconda è tutto ciò che riguarda il sociale e la salvaguardia del pianeta e delle persone in difficoltà, mentre la terza è la lettura. Proprio riguardo a quest'ultima la cantante ex moglie di Aldano ha avuto modo di pubblicare un'immagine che ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi fan e follower. Per lei è come se fosse Natale e non potrebbe essere altrimenti per una come lei. Romina Power, giorno importante per lei come si può vedere dall'ultimo post che la cantante americana ha pubblicato su Instagram, infatti, Romina Power ha avuto modo di postare questa immagine in cui, come possiamo vedere, ci sono tantissimi libri, sia vecchi sia più recenti, tutti pronti per essere letti, come del resto è giusto che sia. Insomma, ancora una volta la cantante si è fatta un bellissimo regalo, degno della sua intelligenza e soprattutto della curiosità che è insita in tutti gli avidi lettori come del resto è lei. Insomma, una bellissima notizia per tutti i suoi fan e follower che la vedono finalmente felice dopo un periodo davvero molto difficile per lei dal momento che, come sappiamo, non è affatto facile per una come lei, abituata a stare sempre sul palcoscenico, dover stare ferma per tanti mesi in questo vero e proprio riposo forzato, nella speranza che si possa ben presto tornare non solo a suonare dal video ma anche e soprattutto a sentire il live dei nostri artisti preferiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.